Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Italia in lutto, la notizia è arrivata da poco in redazione, una morte improvvisa che ha lasciato tutta l'Italia senza parole. Se n'è andato in punta di piedi, ma la sua morte fa troppo rumore. Sono trascorse poche ore dalla sua dipartita e non ci si riesce a capacitare della sua morte. Il giovane, Luca Perri, 22 anni, è stato trovato senza vita, nel suo alloggio universitario a Firenze dove studiava. Una morte improvvisa e prematura che ha provocato sgomento nella comunità di Amantea, dove lo studente era cresciuto e dove abita la sua famiglia. In segno di rispetto sono state anche annullate le celebrazioni del patrono locale Sant'Antonio da Padova. Nonostante l'intervento, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altra che constatare il suo decesso. Sul posto anche i carabinieri per accertare quanto accaduto. Tutta la comunità di Amantea si è stretta intorno alla famiglia descrivendo Luca come un ragazzo dolce, educato, dal sorriso immenso. Una tragedia improvvisa che ha colpito tutti.